Un atto di amore di un imprenditore palermitano che ha dato vita a un'azienda che ha le radici a Palermo, ma che ormai è un'azienda nazionale e internazionale. Dopo tanti anni un imprenditore palermitano che si occupa del Palermo per sponsorizzare, per legare il nome della sua azienda al nome della città. Credo che sia la conferma di come ci sia bisogno in questa nostra città di avere un poco di sana autostima, di smetterla di parlare male di noi, cercare di amare lo sport, amare il rosa nero e di amarlo anche se non ci fa simpatia il Presidente. E io invito ad amare Palermo anche se non fa simpatia il Sindaco. Ho sempre un'azienda che ha bisogno di pubblicità, ma ne ho tanta, ne faccio tanta in tutta l'Italia. Non avevo bisogno di mettere il nome della mia compagnia sulle maglie di Palermo. Il mio è stato un atto di amore con fronte della città, perché in momenti più difficili bisogna adoperarsi per risollevare. un qualcosa, nel caso particolare la squadra di calcio del Palermo. Perché ci credo, diversamente giuro, non l'avrei mai fatto.